Andiamo quindi ora a configurare la nostra centralina SafeX. Come prima cosa andiamo quindi a vedere nello slot posteriore di inserire la nostra SIM. Diamo ora alimentazione alla centralina tramite il suo cavo usb e alimentatore usb integrato e avremo quindi l'avviamento della centralina. Andiamo quindi ora a scaricare l'applicazione tramite QR code dedicato all'interno del nostro manuale. Perciò apriamo il manualino fino alla pagina 10 dove troveremo il QR code dell'applicazione. Poi tramite un QR code reader sul nostro dispositivo cellulare andiamo a leggere il QR. Questo ci reindirizzerà automaticamente all'applicazione da scaricare e quindi potremo andare a premere ottieni per il download dell'applicazione. Avvenuto ciò andiamo ad aprire la nostra applicazione. Andiamo a dare il sì. E perciò dovremo seguire le indicazioni che l'applicazione ci darà per la prima configurazione. Come prima cosa dovremo quindi impostare la nazione e il numero di telefono della centralina. Inseriamo ora il numero di telefono. Premiamo fase 2 e andiamo avanti. Andiamo quindi ora a inserire la password che di default sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo alla fase 3 e diamo un numero alla nostra centralina. In questo caso la chiameremo casa. La consentiamo. Ora avendo configurato la nostra centralina, la nostra applicazione, avendo inserito la sima all'interno della centralina, ci basterà quindi alimentare la centralina, controllare la gancia del GSM e potremo già cominciare a configurare i primi sensori. In quanto la caratteristica di questa centrale è che tutti i sensori sono configurabili tramite applicazione, senza dover programmarli tramite centralina. Vediamo quindi ora un inserimento tramite applicazione, dove precompilerà l'SMS tramite i dati da noi forniteli all'inizio della configurazione. Potremmo quindi notare che la centralina si è armata, andiamo a vedere quindi il disinserimento, nella stessa maniera, il miglio dell'SMS è precompilato. Alla ricezione dell'SMS andrà a disarmarsi. La centralina ci risponderà con un SMS di avvenuto disinserimento con successo e anche dell'avvenuto inserimento con successo.